Lusignuolo. Avete da sapere che nella Cina l'imperatore è cinese e che sono cinesi tutti quelli che gli stanno d'attorno. Ciò che vi racconterò è avvenuto molti anni or sono, ma appunto per questo la storia merita ad essere sentita prima che se ne perda del tutto la memoria. Il palazzo dell'imperatore era il più splendido palazzo del mondo. Era fatto tutto di porcellana preziosissima, ma così delicata, così fragile, che bisognava badar bene a quel che si faceva, anche soltanto nell'accostarvisi. Il giardino era pieno di magnifici fiori ed, ai più preziosi, il giardiniere aveva attaccato certi campanellini d'argento per modo che nessuno potesse passare senza osservarli. Sì, nel giardino dell'imperatore tutto era mirabilmente combinato ed era un giardino immenso. Nemmeno il giardiniere sapeva dove terminasse. Cammina, cammina, cammina! Si arrivava ad una superba foresta, con alberi alti e limpidi laghi, e la foresta si stendeva avanti avanti sino al mare, azzurro e profondo, sì che i bastimenti costeggiando potevano passare sotto i rami dei grandi alberi che sporgevano sull'acqua. Fra questi alberi viveva un usignuolo, il quale cantava così meravigliosamente che persino il povero pescatore, con tante altre cose che aveva per il capo, quando usciva la notte a gettare le reti, non poteva fare a meno di fermarsi immobile ad ascoltarlo. Che bellezza! Esclamava! Ma poi gli toccava badare ai fatti suoi, e l'uccellino gli usciva di mente. Eppure, quando la notte dopo l'usignuolo tornava a cantare, il pescatore si fermava di nuovo ad ascoltare, e di nuovo ripeteva. Che bellezza! Da tutti i paesi del mondo capitavano forestieri a visitare la città dell'imperatore, e la ammiravano, e ammiravano il palazzo ed il giardino. Ma quando udivano l'usignuolo, dicevano, ah, come questo non c'è niente al mondo! Et i viaggiatori ne parlavano quando tornavano alle loro case. E i più dotti scrissero anche molti libri sulla città, sul palazzo e sul giardino. né l'usignuolo fu dimenticato. Ebbe anzi il primo posto fra tante meraviglie, e quelli che sapevano scrivere in poesia scrissero odi bellissime sull'usignuolo della foresta, in riva al lago profondo. I libri andarono per il mondo, e due o tre giunsero sino all'imperatore. Seduto sulla sua poltrona d'oro, l'imperatore leggeva e leggeva, ed ogni tanto assentiva col capo per il compiacimento di trovare le magistrali descrizioni della città, del palazzo e del giardino. Ma l'usignuolo è il più bello di tutto. Stava scritto proprio così. Che affare è questo? esclamò l'imperatore. Io non ho mai veduto, usignuoli. Io non so che ci sia un tal uccello nel mio impero, e tanto meno nel mio giardino. Non ne ho mai neppur sentito parlare. Pensare che debba prenderlo per la prima volta dei libri. E chiamò il suo cavaliere d'onore. Questo cavaliere era così compito che quando qualcuno, inferiore a lui di grado, osava rivolgergli la parola o fargli qualche domanda, non rispondeva altro che p, che è come dire niente del tutto. È scritto qui che c'è un uccello meraviglioso chiamato usignuolo, disse l'imperatore, e niente di meno che pare sia la miglior cosa di tutto il mio impero. Domando e dico perché non ne ho mai sentito parlare. Non ho mai sentito questo nome, rispose il cavaliere. Certo non fu mai presentato a corte. Comando che abbia a venirvi questa sera e che canti alla mia presenza, disse l'imperatore, che tutto il mondo abbia da sapere quel che posseggo e che non abbia da saperlo io. Non l'ho mai sentito nominare, disse il cavaliere, ma lo cercherò, lo cercherò e lo troverò. Trovarlo sì, ma dove? Il cavaliere corse su e giù per tutti gli scaloni, per tutte le sale e gli anditi e i corridoi. Ma nessuno tra quanti incontrava aveva mai udito parlare dell'usignuolo. Ed il cavaliere tornò di corsa dall'imperatore e gli disse che doveva essere una favola inventata dagli scrittori di libri. La vostra imperiale maestà non può credere quanta parte di quello che si scrive sia pura immaginazione, senza contare la poesia che è detta Arte Nera. Ma il libro nel quale l'ho letto, disse l'imperatore, mi fu mandato dall'alto e possente imperatore del Giappone e perciò non può mentire. Io voglio sentire l'usignuolo. Deve venire qui questa sera stessa. Egli ha il mio imperiale gradimento e se non viene, dopo che la corte avrà cenato, tutta la corte sarà pestata sotto i piedi. Zimpe, disse il cavaliere. E di nuovo corse su e giù per gli scaloni e per tutte le sale e i corridoi. E metà della corte correva con lui, perché ai cortigiani poco garbava ad esser pestati sotto i piedi. Poi fu fatta una grande inchiesta per riscoprire quest'usignolo che tutti conoscevano all'infuori della corte. Finalmente in cucina trovarono una povera ragazzetta la quale disse, l'usignolo, altro se lo conosco. Sì, canta tanto bene. Ogni sera mi è data licenza di portare alla mia mamma malata gli avanzi della tavola. La mia mamma abita vicino alla spiaggia del mare e quando nel ritorno mi sento stanca mi riposo nel bosco. E allora ascolto il canto dell'usignolo e gli occhi mi si inumidiscono ed è come se la mamma mi desse un bacio. Ragazza mia, disse il cavaliere, io ti farò avere un posto nella cucina imperiale con licenza di vedere l'imperatore mentre desina, se ci sai condurre immediatamente da quest'usignolo, perché il concerto è annunziato per questa sera stessa. E così tutti si incamminarono verso il bosco dove l'usignolo soleva cantare. Metà della corte addirittura seguiva la ragazzetta ed il cavaliere d'onore. A mezza strada sentirono mugire una mucca. Oh! gridarono i paggi di corte. Eccolo finalmente! E spiega una potenza meravigliosa davvero in sì piccolo animale. Certo, debbo averlo sentito già altra volta. No, quella è una mucca che mugisce, disse la piccola guattera. Abbiamo ancora un buon tratto di strada da fare. Poi le rane nel fosso cominciarono a gracidare. Magnifico, esclamò il predicatore della corte cinese. Ora che lo sento, somiglia a un campanellino di chiesa. No, quelle son rane, disse la ragazzina. Ma ben presto lo sentiremo. Di lì a poco, infatti, l'usignolo incominciò a cantare. Eccolo, esclamò la ragazzina. Sentite, sentite, è laggiù. E additò un uccellino grigio in un cespuglio. Ma è possibile, gridò il cavaliere. Non avrei mai creduto che avesse quell'aspetto lì, come meschino. Di certo che avrà mutato di colore, vedendosi attorno tanti personaggi di riguardo. Mio piccolo usignolo, disse forte la serbetta. Il nostro augusto imperatore desidera che tu canti davanti a lui. Col maggior piacere, rispose l'usignolo, ed incominciò a cantare deliziosamente. Sembran tanti campanellini di cristallo, disse il cavaliere. E guardate la piccola gola come lavora. È strano che non l'abbiamo mai sentito prima. L'uccelletto avrà un vero successo a corte. Debbo cantare ancora per l'imperatore? domandò l'usignolo, perché credeva che l'imperatore fosse presente. Mio eccellente usignoletto, disse il cavaliere. Ho l'onore di invitarvi per questa sera alla corte, ove affascinerai sua maestà l'imperatore con la dolcezza del tuo canto. Le mie canzoni suonano meglio tra il verde della foresta, osservò l'usignolo. Ma si arrese volentieri, quando udì che tale era il desiderio dell'imperatore. Il palazzo era addobbato a festa. Le pareti ed i pavimenti, tutti di porcellana, scintillavano alla luce di migliaia e migliaia di lampade d'oro. I fiori più rari, quelli che avevano i campanellini più squillanti, adornavano i vestiboli. C'era un continuo andirivieni e continue correnti d'aria, ed i campanellini suonavano tanto forte che non si sentiva la propria voce. Nel mezzo della sala grande, dove sedeva l'imperatore, avevano posta una gruccia d'oro e su quella doveva stare l'usignolo. Tutta la corte era presente e la piccola guattera aveva avuto licenza di appostarsi dietro la porta, perché le era stato conferito il titolo di cuoca effettiva di corte. Tutti vestivano l'alta uniforme e tutti guardavano l'uccellino grigio che l'imperatore aveva salutato con un cenno del capo. E l'usignolo cantò così meravigliosamente bene che all'imperatore vennero le lacrime agli occhi e poi scesero giù giù per le gote. E allora l'usignolo cantò ancora meglio, con tanta dolcezza che il canto andava proprio al cuore. L'imperatore rimase così soddisfatto che voleva conferire all'usignolo le sue pantofole d'oro perché le portasse al collo. Ma l'usignolo, pur ringraziando, non volle accettare, dicendo di essere già compensato abbastanza. Ho veduto due lacrime negli occhi dell'imperatore. Questo val più di qualunque tesoro. Le lacrime di un imperatore hanno una speciale potenza. Io sono più che compensato. E cantò di nuovo, con la stupenda voce dolcissima. Ecco la più garbata civetteria che si sia mai veduta, dissero le dame che stavano sedute all'intorno. E provarono a tenere un po' d'acqua in bocca per farla gorgogliare appena qualcuno rivolgesse loro la parola. Pensavano con ciò di poter diventare tanti usignoli. E di racchè e le cameriere si dichiararono anch'essi soddisfatti. Ed è tutto dire, perché sono i più difficili di contentatura. Insomma, l'usignolo ottenne il più completo trionfo. Ed ora doveva rimanere alla corte. Doveva avere la sua gabbia, con libertà di uscire due volte al giorno ed una la notte. Quando l'usignolo usciva, dodici valletti formavano la sua scorta. E ciascuno teneva un filo di seta legato alle zampe dell'uccellino e doveva tenerlo ben stretto. Chi avrebbe potuto trovare gusto a si fatte escursioni? In tutta la città non si faceva che parlare dell'uccello meraviglioso. Quando due si incontravano, l'uno diceva, usign, l'altro, uolo. E poi tutte e due sospiravano e si intendevano senza dire di più. A undici bambini di pizzicagnoli venne imposto il nome dell'uccelletto. Eppure nessuno di essi seppe mai cantare una nota. Un giorno l'imperatore ricevette un grosso pacco sul quale stava scritto usignolo. Sarà un altro libro sul celebre uccello, pensò l'imperatore. Ma non era un libro. Era una piccola opera d'arte, invece, racchiusa in una scatola. Un usignolo meccanico, che cantava come il vero ed era tutto tempestato di brillanti, di zaffiri e di rubini. Appena lo si caricava, cantava una delle arie dell'usignolo vivo e poi muoveva la coda e l'oro e l'argento scintillavano. Intorno al collo aveva un nastrino con questa scritta. L'usignolo dell'imperatore del Giappone è povera cosa a paragone di quello dell'imperatore della Cina. Ah, magnifica! Dissero tutti. E subito a colui che aveva portato l'uccello meccanico fu conferito il titolo di primo fornitore di usignoli della corte imperiale. Bisogna che cantino insieme! Che duetto ha da essere! Esclamarono i cortigiani. E insieme cantarono. Ma non andavano tanto bene, perché l'usignolo vero cantava a modo suo e quello artificiale obbediva al cilindro dentato che aveva dentro. Non è colpa sua, disse il maestro della cappella imperiale. Va perfettamente in tempo e, quanto alla tecnica, è proprio della mia scuola. L'uccello meccanico dovette allora cantare da solo. Riportò un trionfo uguale a quello che aveva avuto il vero, ed era poi molto più bello a vedere. Scintillava come i braccialetti e gli spilli gemmati. 33 volte cantò lo stesso pezzo, senza mai stancarsi. La gente l'avrebbe riudito volentieri un'altra volta ancora, ma l'imperatore disse che ora doveva cantare l'usignolo vivo. Sì, ma dov'era andato? Nessuno aveva notato che era volato via dalla finestra aperta per tornare al verde suo bosco. Che ne è avvenuto? domandò l'imperatore. Tutti i cortigiani dissero mondo di male dell'usignolo, tacciandolo della più nera ingratitudine. Dopotutto, dei due ci rimane il migliore, dissero. E così l'uccello meccanico dovette cantare di nuovo. Era la trentesima quarta volta che ascoltavano la stessa canzone, ma non la sapevano ancora bene a memoria, perché era molto difficile. Il maestro di cappella lo lodò in particolar modo. Affermava che era migliore dell'usignolo vivo, non solo per l'aspetto esteriore e per tutti quei magnifici brillanti, ma anche per il meccanismo interno. Perché, vedete, signore e signori, vedete, soprattutto, sacra maestà, con un vero signolo non si può mai calcolare quello che venga dopo. Ma in questo artificiale tutto è preveduto. Si può spiegarselo, si può aprirlo e far vedere alla gente come è fatto, dove sia il cilindro, come giri e come una nota chiami l'altra. Per l'appunto quel che volevamo dire noi, assentirono tutti. E il maestro di cappella ebbe il permesso di mostrare l'uccello al popolo la domenica seguente. Anche il popolo aveva da sentirlo cantare, così comandava l'imperatore. E lo sentirono, e rimasero così soddisfatti come se si fossero tutti ubriacati di te, perché questa è proprio la passione dei cinesi. E tutti fecero, oh, e tesero l'indice e accennarono col capo. Ma il povero pescatore, che aveva udito l'usignolo vero, disse, canta bene abbastanza e la canzone somiglia. Ma ci manca qualche cosa, non so dir che, ma qualche cosa ci manca. L'usignolo vero fu bandito dalla città e dall'impero. Quello meccanico, intanto, aveva preso il suo posto su di un cuscino di seta, accanto al letto dell'imperatore. Tutti i doni d'oro e di pietre preziose che aveva ricevuti erano schierati intorno ad esso. Quanto a titolo era giunto a quello di grande cantore imperiale della siesta. E quanto a grado al numero uno della mano manca. Perché l'imperatore dava maggiore importanza a quella parte dove sta il cuore. Ed anche negli imperatori il cuore è un po' verso sinistra. Il maestro di cappella scrisse un'opera di 25 volumi sull'usignolo meccanico. Opera molto dotta e molto diffusa. Zeppa delle più difficili parole cinesi. Ma tutti del popolo affermavano di averla letta e compresa. Per paura ad essere giudicati stupidi ed avere i corpi calpestati. Così passò tutto un anno. L'imperatore, la corte e tutti gli altri cinesi sapevano a memoria ogni più lieve gorgheggio nella canzone dell'uccello meccanico. Ma appunto per questo piaceva loro ancora di più perché potevano accompagnarla cantando essi pure e così facevano infatti. I monelli per le vie cantavano zizi zizi glu 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 e l'imperatore stesso faceva altrettanto. Ah era proprio bellissimo. Ma una sera mentre l'uccello meccanico cantava del suo meglio e l'imperatore disteso al letto lo stava ad ascoltare, qualche cosa dentro dell'usignolo fece uiss! Si udì uno schianto. Uir! Tutte le ruote girarono ad un tempo e la musica si arrestò bruscamente. L'imperatore balzò dal letto e fece chiamare il suo medico particolare. Ma che poteva farci un medico? Allora fu mandato in cerca ad un orologiaio e dopo molte parole e molti esami l'uccellino fu posto sotto una specie di cura. Ma l'orologiaio disse che bisognava trattarlo con molti riguardi perché le lamine erano logore e sarebbe stato impossibile sostituirle con lamine nuove in modo che la musica suonasse ugualmente. Il lamento fu generale. Solo una volta l'anno fu concesso che l'usignolo cantasse ed anche questo era forse già troppo. Il maestro di cappella fece però un discorsetto per dimostrare che tutto andava bene come prima e così naturalmente tutto andò bene come prima. Passarono cinque anni ed un vero dolore venne a colpire l'intera nazione. I cinesi volevano in fondo un gran bene all'imperatore ed ora egli era gravemente malato e, a quanto si diceva, poco più poteva durare. Già era designato un nuovo imperatore e la gente si affollava nelle vie e domandava al cavaliere le nuove dell'imperatore malato. Puh! rispondeva a questi e scrollava il capo. Freddo e pallido giaceva l'imperatore nel suo grande letto sfarzoso. Tutta la corte lo credeva già morto e tutti si affrettavano a prestare omaggio al nuovo sovrano. I ciambellani erano corsi fuori per discorrerne a loro agio e le ancelle si erano tutte riunite a prendere il caffè ed a fare due chiacchiere. Dappertutto, né vestiboli, né corridoi, erano stesi grossi tappeti perché non si avesse a sentire il rumore dei passi e perciò tutto era quiete e silenzio nella reggia. Ma l'imperatore non era morto ancora. Rigido, pallido, stava disteso sul magnifico letto dalle lunghe cortine di velluto, dalle pesanti nappe dorate e la luna che entrava dalla finestra aperta batteva sul volto dell'imperatore e sull'uccello meccanico. Il povero imperatore poteva a malapena respirare, gli pareva di avere un grande peso sul petto. Aperse gli occhi e vide che era la morte, che stava appunto seduta sul suo petto e si era posta in capo la sua corona d'oro e teneva in una mano la spada dell'impero, nell'altra una bellissima bandiera. Tutto all'intorno, di tra le pieghe delle ricche cortine di velluto, si affacciavano strane figure, due o tre molto brutte davvero, le altre bellissime emiti. Erano tutte le azioni buone e cattive dell'imperatore, le quali gli stavano dinnanzi, ora che la morte gli gravava sul cuore. Ti ricordi questo? Sussurravano l'una dopo l'altra, e quest'altro te lo ricordi? E tra tutte gliene dicevano tante che il sudore gli gocciolava dalla fronte. Questo non lo sapevo, diceva l'imperatore. Musica, musica, presto il grande tam tam cinese, gridava. Ch'io non senta più tutto quello che dicono. E quelle continuavano a parlare, e la morte a far di sì col capo a tutto quel che dicevano, come un bonzo di sopra il caminetto. Musica, musica, gridava l'imperatore. A te, prezioso uccellino d'oro, canta, canta, t'ho fatto tanti regali, t'ho dato oro e pietre preziose, ti ho persino appesa al collo la mia pantofola d'oro. Canta ora, canta! Ma l'uccello stava muto. Non c'era lì alcuno che lo caricasse, e da solo non sapeva cantare. La morte continuava a fissare l'imperatore con le larghe occhiaie vuote, e tutto era silenzio, silenzio terribile. A un tratto, dalla finestra aperta, giunse un canto soave. Era l'usignolo vivo che stava fuori sopra un ramo. Aveva sentito i patimenti dell'imperatore, ed era venuto a cantargli un inno di conforto e di speranza. E mentre cantava, gli spettri andavano sempre più impalidendo. Il sangue correva sempre più e più rapido nelle deboli membra dell'imperatore. Persino la morte ascoltava, e, di tratto in tratto, le sfuggiva detto. Ancora, ancora, mio piccolo usignolo! Ma che cosa mi darai se canto ancora? Mi darai quella magnifica spada d'oro? Mi darai quella ricca bandiera? Mi darai la corona dell'imperatore? E per ogni nuova canzone la morte cedette ad uno ad uno i suoi tesori. L'usignolo cantava, cantava, diceva del tranquillo cimitero dove le bianche rose fioriscono, dove soavi i lilla odorano sopra le tombe, e dove errorano le fresche zolle tutte le lacrime di chi rimane. Allora la morte provò un irresistibile desiderio di rivedere il suo giardino, e volò via per la finestra, sotto forma di una fredda candida nebbia. Grazie, grazie, disse l'imperatore. Ben ti riconosco, celesto uccelletto, ti ho bandito dalla città e dall'impero. Eppure tu hai scacciato dal mio letto gli spettri del male e hai bandito la morte dal mio cuore. Come potrò mai ricompensarti? Ho già avuto la mia ricompensa, rispose l'usignolo. Ho veduto le lacrime dei tuoi occhi la prima volta che ho cantato la tua presenza. Ne potrò mai dimenticarle. Ecco i gioielli che rallegrano il cuore del cantore. Ma ora dormi, se vuoi tornare forte e tranquillo. Ti canterò qualche altra cosa. E cantò, e l'imperatore cadde in un dolce soppore. Ah, com'era suave ristoro il sonno! Il sole entrava dalla finestra fin sul letto quando si destò riposato e guarito. Nessuno dei suoi valletti era tornato ancora, perché tutti lo credevano morto. L'usignolo soltanto gli stava vicino e cantava. Devi rimanere sempre con me, disse l'imperatore. Canterai come ti piace, ed io farò a pezzi l'uccello meccanico. No davvero, rispose l'usignolo. Esso ha fatto del suo meglio finché ha potuto. Conservalo come solevi sino ad ora. Io non posso fare il mio nido nel palazzo per viverci sempre. Lascia che ci venga quando ne sento il desiderio. Allora, la sera, mi poserò sul ramo accanto alla tua finestra e ti canterò qualche cosa che ti farà lieto e pensoso insieme. Ti canterò di quelli che sono felici e di quelli che soffrono. Ti canterò del bene e del male che è intorno a te e ti rimane celato. Il piccolo cantore vola per ogni dove, presso la capanna del povero pescatore e sul letto del contadino, e conosce tutti coloro che vivono lontani da te e dalla corte. Io amo il tuo cuore più della tua corona, eppure anche la corona a carattere sacro. Verrò e canterò per te, ma mi devi promettere una cosa. Tutto quello che vuoi, disse l'imperatore, e stava ritto nella sua veste imperiale che aveva indossata da solo, e stringeva al cuore la pesante spada d'oro. Di una cosa ti prego, non dire ad alcuno che hai un uccellino, il quale ti tiene informato di tutto, e a questo modo le cose andranno molto meglio. E l'usignolo volò via. I valletti entrarono per dare un'occhiata all'imperatore morto, e... sì, altro che morto! L'imperatore era lì, tranquillo, che li salutava. Buongiorno ragazzi!